Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo di Ammiaglia, io mi chiamo Fabio, accompagnerò su questo titolo di circa 5 minuti sul vaccino a Coletchese, scenderemo un percorso da Fiumeata fino ad arrivare sull'area di Garlate, faremo un percorso nuovamente qui sul vaccino a Coletchese, dove sosteggeremo Malcate e Valpadella prima di fare il tuo marco di partenza, qualsiasi domanda ovviamente, dove è fermata? No a mezzo, ho capito. I'm Fabio, e I will be January 5th in about 5 minutes past the Lif human, you willot down to Delaternacht helware to L 번 and ormio, to Lake on Diarmatta, and we will finally come back here again on thewandern when dedicated we accomplished a coming back at Statikovac. La prima volta che vediamo qui sulla sinistra è la sede della velocità Cronviglietti, che ha il definizio storico e fa in parte a 120, ma poi si è allenato anche qui il Paolo Passanti, che strappò l'unico portiere della Cielo per marcare in avventura di una russa. The first thing that we can see here on my left is the Sporting Club Society Camottieri Lecco. The first thing that we can see is the historical buildings, was founded in fact in 1920 and it is famous in the world. It was a trainer here Antonio Rossi, that won the Kaya K1 Olympic Games in 2008 in Vecchino, and also a trainer here Paolo Passanti, sailor and on the famous racing sailing ship Luna Rossi. The first thing that we can see is that the and the race in that area is the only one of my left is to get to the bus. The first thing that we can see is that this is a quarter of a week. If you call the name of the car, you can hear this. The first thing that I saw in the day is that this is a rhubarbetic journey in the Kaya Park,